sabato 23 gennaio 2016 sono alla ricerca di un fungo può sembrare strano con queste temperature e con questo sottobosco c'è un fungo che ce la fa a nascere crescere e stare a queste bassissime temperature si chiama igroforus marzuolus la natura con l'ultima nevicata ha fatto il soccorso e io sono sempre alla ricerca dell'igroforus marzuolus che puntualmente si fa trovare perché diciamo è anche abitudinario cresce sempre nei soldi posti ora sono un pochino ghiacciati però però ci sono e sopravvivono il primo fungo sono i primi funghi che si trovano c'è da meravigliarsi come faccino a vivere e a nascere in queste bassissime temperature saluto a tutti